Il programma degli eventi ha già preso il via e si protrarrà nell'estate cosentina fino al 28 luglio. Parliamo della rassegna Il Bene, gli assalti e altri merletti in corso di svolgimento al Castello Svevo di Cosenza, riaperto circa un anno fa. Il monumento Bruzio si candida così ad essere un grande attrattore turistico ma anche location ideale per eventi culturali ma anche dedicati alla musica e allo spettacolo e saranno tanti quelli in programma fino a fine luglio. Si continua poi con una tre giorni dislocata a cadenza quindicinale sul bel canto al Castello, quindi sulla musica lirica. Un omaggio a tre grandi momenti della musica italiana attraverso la lirica, Napoli il 28 di giugno, poi il 14 di Rossini e il 28 luglio faremo un omaggio ai 150 anni di Francesco Cilea. Tre momenti legati alla musica lirica che vedranno coinvolti tenori, soprani e musicisti del Conservatorio di Cosenza, quindi talenti, giovani talentuosi della scena lirica giovanile italiana. Avremo poi l'ironia, il sarcasmo e anche il ricordo delle musiche di Gian Maria Testa attraverso le parole di Paolo Rossi che sarà nostro ospite il 12 di luglio al Castello Svevo con lo spettacolo Rossi in testa e poi una tre giorni dedicata al Peperoncino Jazz Festival.